La regione comunque ha un potere a sé, la notte in conto ci sono i soldi della regione a Roma, io penso che qualcosa ne dovrà fare, e allora cosa passava? Sono al mare, sono al mare, è da questa notte che hanno pulito la città perché arriviamo al Fano, da domani si ritornerà come prima.